Quella che aprirà domenica 3 settembre alle 18, anzi siete tutti invitati all'inaugurazione, è una mostra che in pratica prende lo spunto, diciamo così, dalla nostra memoria storica, dalla nostra famiglia, dedicata all'amicizia con questo Gianni Sassi, che è stato un importante imprenditore culturale, di cui ricorrono i 30 anni della scomparsa e anche noi a Pesaro abbiamo voluto ricordarlo. Una bellissima novità che si inserisce in una serie di aperture, di musei, di spazi museali della città, per la città, per il territorio, è in chiave Pesaro 2024, in questo caso un investimento privato della famiglia Bucci, quindi Viviana e Tommaso che hanno creduto nel recupero dello spazio, della fonderia, del luogo di famiglia fondamentalmente, che quindi diventa, ridiventa Casa Bucci, per ospitare eventi culturali, ricostruire anche quello che era l'anima del convivio, legato alla figura di Franco e degli artisti che, insieme a lui, hanno da tutta Italia e oltre calcato questi spazi. La mostra anticiperà quelle che saranno le attività che faremo dentro questo spazio, che ricordo è dove c'è stata la fabbrica di ceramica di mio padre, Franco Bucci, per circa 50 anni, che adesso, diciamo così, apre a un nuovo scenario e quindi è una mostra che durerà fino al 5 di novembre, dove anticipiamo le tematiche che poi vorremmo trattare all'interno di Casa Bucci, che sono dalla graphic design alla ceramica alla fotografia e soprattutto all'intreccio fra le arti e lo scambio di esperienze fra persone e artisti. La partenza con la mostra di domenica, dedicata alla trentennale di Sassi, va in questa direzione, un po' perché appunto da questi luoghi è nata un po' anche la storia del racconto, la mostra è centrata in particolare sulla storia della gola, che è la rivista che poi ha dato in là tante esperienze, slow food compresa, di racconto di qualità, anche attraverso la grafica e attraverso le arti della cucina e perché appunto permette di riconnettere molti fili, dalla grafica alla creatività, al cibo stesso, in un luogo che vorrà, attraverso il tema della ceramica, raccontare anche queste storie. Una delle cose più importanti, penso, che faremo qui a Casa Bucci è quella di rendere pubblico e fruibile e l'archivio Franco Bucci, che è qui custodito. Sono circa 5.000 pezzi di mio padre prodotti dai primi anni 60 fino agli anni 2000, quando lui è mancato. Questa è una cosa che ci rende orgogliosi perché fino adesso è stato così chiuso e penso dai primi del 24 sarà di nuovo possibile vederlo, visitarlo e conoscere questo lavoro importantissimo nel campo della ceramica e del design che Franco Bucci ha fatto.